Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale, oggi siamo qui su TocLife per fare una nuovissima giornata però partendo dalla sera, quindi iniziamo subito Allora ragazzi, dobbiamo cenare e io ho in mente di fare, non so se una pasta al bacon per tutti ma penso che non è possibile, però penso che farò i hot dog perché piacciono a tutti, vedremo raga, vedremo Ok ragazzi, ho preparato la tavola così, cioè si presenta così Se vedete che una pipite è diversa perché è quella di Grace Grace piccolina non può bere bevande energetiche, ok? Quindi è piccolina, vabbè, direi che che Cagli appunto si può mangiare perché è grande ormai, ha 14 anni Va benissimo, ok? Quindi si può bere tutto quello che vuole Tranne cose tipo alcol No, 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 non ci siamo così Comunque ora Non lo so, le vado a chiamare Io ho detto anche di vestirsi tipo così, cioè non elegante ma di vestirsi perché comunque la sera è sempre un dramma Cioè praticamente vengono col pigiama ma vabbè Ora le chiamo Eccoci Ah, ok, va benissimo Ora, dai sedetevi Cì, che buono Mamma, è buonissimo Questo è il mio? Certo, tesoro Questo è mio Ma perché io l'ho andata Amore, te l'ho detto un sacco di volte Perché tu sei piccolina, non puoi bere bevande energetiche Quando sei più grande, almeno di 11 anni, 10 Puoi, va bene? Va bene Ok È andata Ok, allora, datemi tutto, tutto, tutto quanto Voi, soprattutto, voi due amori Andatevi, andate a dormire Andatevi a mettere pigiama, andatevi a lavare Andatevi a fare buona, tutto quanto E poi andate a dormire, va bene? Non fate tardi Soprattutto Tu, Kylie Perché so che Grey si addormenta Sì, mamma Sì, mamma, però devi farlo, eh Non è che mi dici solamente sì, mamma E poi non lo fai, eh Va bene, va bene Però comunque mi sto in chiamata, eh Non è che Sì, ma fai presto Cioè, non fare tardi Non so perché ho detto Non fai presto Sì, sì Io l'ho, ragazzi Ok, papà Vedi che Come ha detto mamma Non fare tardi con le tue amiche Ok, perché domani c'è scuola Ehm Non so se devi entrare prima O più tardi Perché A mamma gli è arrivata la notifica Come? Eh, papà È arrivata la notifica Che devi entrare O più prima O più tardi Quindi non lo so Oddio, papi Grazie che me l'hai detto Mamma non me l'ha proprio detto Vabbè Grace, tu stai qui, ok? Io mi vado a lavare Non venire Grazie Titi Mamma mia Tola perché te è grande E quindi puoi avere i tuoi pazzi Direi, Grace Direi Comunque mi strucco Perché mia mamma Mi ha fatto pure trucchere Non pensavo che Quindi Utilizzo Vabbè Me la faccio Secco Asciugo Vabbè raga Penso che Non mi interessi Però vabbè Non ho già pure un bagno Ok ragazzi Ora Prendo questo E Mi Spoglio Ok Poi ciò mi vengo porto Appunto il separe Perché Proprio per questo serve Ok Uppa Ma quando ti muove quella Un attimo Muu Re Ok Porto questo E Un momento Vai vai Ok Ok vabbè ragazzi Io mi addormento Perché Non ho più tempo Di stare in chiamata Guardate Perché Veramente Ho fatto tardi Già sono le Quasi le undici Cioè Le Le undici mila venti Quindi Mi devo addormentare Buonanotte Ora mi addormento E ovviamente Anche io mi addormento Mi sto Ovviamente Un po' qui Ma Non dormo Perché devo aspettare Mia moglie che viene Rieccomi Ok Stanno tutti dormendo No Solo qua Ti stavo aspettando Ok Buonanotte Buongiorno Ciao ragazzi Buongiorno Allora Oggi Mia figlia Deve entrare Più tardi Non so cosa Se lo sa Non so Se il mio marito L'ha detto Amore Mamma Ma Buongiorno Buongiorno Comunque Buongiorno Mamma No aspetta Mamma ho visto Nel computer Sono le Mamma sono le Dieci e mezza Certo Amore Deve entrare Alle undici Ma Mamma Me lo dicevi Prima Papà Mi ha fatto addormentare Presto Perché aveva detto Che non sapeva Se Mi Comunque Cioè se Entravo prima O più tardi E amore Sarà sbagliato Dai Poi tu sbagli Su tante cose Comunque Vatti a lavare Dai Cioè Voglio dire Vatti a vestire Poi vieni a fare colazione Giù Dai Papà rimane qui a casa Perché Deve andare a lavorare Dopo Quindi faccio un attimo Dormire E poi No 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 Io sono Sveglio Molto sveglio Anzi L'accompagno io Va bene Per me È uguale Tanto Io mi riposo E infatti Perciò Ho fatto Perché tu ti puoi pure riposare Ok Va bene Oggi Non so cosa mettermi Ve lo giuro Cioè Tipo questa No Non mi piace Non so cosa Mettermi Vabbè Metto questa Ok Ora Io provaro Cioè Prendo lo zaino Perché ho già preparato Per dirvi Questo sarebbe il mio zaino Le forbici Vero Non li posso dimenticare Ok Amore Lascia qui lo zaino Anzi portatelo giù Che il pietro lo dimentichi Mamma Fortunatamente La colazione Ce la possono fare Pure da soli Infatti Ora sveglio Grace ha lasciato Il computer Aperto Mamma mia Grace Amore Mamma Buongiorno Amore Buongiorno I giochi Giochi Cioè proprio Obbligato Se poi non le vogliono portare Ovviamente non fa niente Però Cioè Si portano giochi Ok Tu hai detto Mamma Ho te lo dimenticare Ma non ci va dentro Probiamo un po' Ti in mano Brava Amore mio Dai dammi lo zaino Che è pesante Pesante Antti Non lo voglio Andiamo dai Andiamo a fare colazione Io Mi dovrei Ma siete ancora qua? Ehm Dai Non facci domande Andiamo tutti Ti stavamo aspettando Secondo te? Secondo te non ci aspettiamo Ma Ma va Ok Andiamo Vabbè ragazzi Ci vediamo domani Io nel mentre preparo Tutti quanti Tanto avevo Avevo a mente Di non Cucinare Ma Alla fine Sempre cucino Quindi Non fa niente Ora Non sto qui A far vedere Un po' Tutto E nulla Speriamo domani Con un nuovissimo video Scusate se ho fatto Un po' di assenze Cioè Ho fatto tipo 4 giorni di assenza O 3 Però perché Ho impegni con la scuola Quindi Ora che è Sabato Posso fare un video Anche domani Anche dopo domani Quindi Ditemi voi Che video Potrei fare Di che genere Potrei portare anche Un nuovo gioco Secondo voi O no Spondetemi Qua sotto Nei commenti Se sono Spenti Stavo dicendo Se avete sentito Tipo musica in sotto Fa nulla Comunque Nulla Cioè Ci vediamo domani E niente Fate un po' di assenze Recupererò Non preoccupate Tutti i video Che avevo in mente Di fare In questi 3 giorni Li faccio Ora Quindi Non vi preoccupate Sempre arriveranno Video Video belli Ciao ciao Alla prossima